Pettinari, il top sarebbe un gol di Pettinari alla salvezza del Pescara domani? Assolutamente, sia per me sia per tutta la squadra. Ci teniamo a concludere bene, abbiamo fatto delle ottime cose nelle ultime partite. Ci rimangono gli ultimi sforzi per fare bene. Ascoli è molto carica per questa partita di domani, il pubblico si muoverà in massa, vanno a caccia di punti salvezza. Al Pescara ne potrebbe bastare uno, a te basterebbe? Diciamo che noi dobbiamo fare le nostre solite cose, le nostre solite giocate per cercare di andare a vincere la partita. Poi in base a come si metterà vedremo il risultato migliore. Un pareggio non ci dispiacerebbe. Poi sappiamo che è una partita molto importante per la città e ci teniamo comunque a fare bene. Ti chiedo una cosa sulla stagione, perché senza mai stata la tua migliore stagione dal punto di vista realizzativo, forse inizio anno ancora meglio, dai un voto a questa tua annata? Un po' come hai detto tu, dal punto di vista realizzativo nel girone d'andata sicuramente ho fatto benissimo, ma nel girone di ritorno è cambiata un po' la situazione, abbiamo passato dei momenti difficili a livello di squadra e di conseguenza anch'io ne ho sofferto un po', però ho cercato sempre di dare il mio contributo, se non con i gol, cercando di mandare in porta i miei compagni e dando sempre il massimo. Zeman, Pilon, tutti gli allenatori dicono che Pettinari non si può fare a meno per il lavoro che fa per la squadra. Anche in chiave futura, con qualche sirena dalla Serie A, potrebbe essere questa l'arma che ti devi giocare? Sicuramente questa è la base, perché entrare in campo, dare tutto, fare un lavoro sporco è la base. Poi è normale che dall'attaccante si pretendono i gol e cercherò sempre di farne sempre di più. L'ultima, rispondimi sì o no, guardi un po' la Serie A per il prossimo anno. Adesso no, intanto penso a fine della stagione, poi è normale che è il sogno di tutti quanti, di ogni giocatore, ambire sempre al massimo.